La diocesi di Lucca, tramite la Caritas, insieme a Farmalucca, Ordine dei Farmacisti, iCare, Farmacie Comunali e S.P.A., lancia il progetto Farmaco Sospeso. Si tratta di un'azione di sensibilizzazione e di una risposta concreta e di comunità al tema della povertà sanitaria, emergenza che si è mostrata in tutta la sua drammaticità durante questi mesi segnati dalla pandemia. Da oggi è quindi possibile aderire in molte farmacie della Piana di Lucca e della Versilia. Il fine dell'iniziativa è quello di garantire a tutti la possibilità di curarsi grazie alla promozione di una raccolta fondi diffusa sul territorio destinata all'acquisto dei medicinali richiesti dalle persone in situazione di fragilità socio-economica accolte dai centri di ascolto Caritas sparsi sul territorio. In pratica, i clienti delle farmacie aderenti, riconoscibili grazie al materiale informativo specifico, avranno la possibilità di fare una piccola donazione di 2, 5 o 10 euro acquistando buoni acquisto farmaco sospeso che saranno poi utilizzati per comprare a un prezzo favorevole farmaci che verranno destinati a persone in situazione di fragilità economica grazie alla rete dei centri di ascolto Caritas.